In questi giorni siamo ossessionati dai numeri, il numero degli infettati, il numero dei guariti, il numero degli infettati nel mondo, nei vari paesi del mondo, i confronti, le comparazioni, le scale epidemiologiche, eccetera. Il numero dei morti. I morti sono diventati un numero perché sono tanti, allora io credo che sia giusto dare un nome a questi morti. Io posso dare il nome ad alcuni dei morti del mio paese, che si chiama Nembro, sta in Valle Seriana, in provincia di Bergamo, e ha avuto 150 persone morte nel mese di marzo, marzo il più crudele dei mesi per Nembro, contro i 10 che sono la mortalità fisiologica dei tempi normali. Il primo di questi morti era un camionista, si chiamava Franco Orlandi, e abbiamo saputo che aveva avuto il coronavirus solo dopo il suo decesso all'ospedale di Alzano Lombardo, che è l'ospedale del paese vicino. E dopo di lui è stata una carneficina, come in guerra, naturalmente le guerre tradizionali sono di diverso segno, tutti i paragoni sono zoppi, ma in questa guerra, in questa situazione si muore come in guerra. Vorrei ricordare anzitutto Tullio Carrara. Chi era Tullio Carrara? Tullio Carrara è l'uomo che negli anni 70 fece nascere la biblioteca a Nembro. La fece nascere perché da giovane laureato fu quello che si curò di noi ragazzi, ed era il nostro complice anche nei primi baci che ci davamo dietro gli scaffali della biblioteca. E aveva perfezionato questa sua passione al punto da creare a Nembro una delle più belle biblioteche d'Italia, recensita anche su tutti i libri di architettura. Voglio ricordare anche Giulio Bonomi. Giulio Bonomi era un falegname, era diventato un intellettuale da autodidatta. Negli anni 50 era stato un campione del dissenso cattolico nella Bergamasca, che è una terra notoriamente molto cattolica. E poi era stato tra i fondatori del manifesto, assieme al nottaio Leidi, assieme a Chiarante. Anche lui ci ha lasciato in una casa di riposo dopo aver toncato il 92esimo compleanno. Di Giuseppe Pezzotta a Nembro ne sono morti tre, tre con lo stesso nome. Uno di loro, uno di questi tre, Giulio Pezzotta, che hanno creato dei problemi nei necrologi, naturalmente per l'identica onomastica, era il presidente della casa di riposo. Nella casa di riposo di Nembro sono morte più di 20 persone. Le hanno diagnosticate tutte come polmonite, ma sappiamo che cosa è stato. Giuseppe Pezzotta era anche un alpino. Il gruppo degli alpini di Nembro conta 140 iscritti. 20 di questi iscritti sono morti, purtroppo. E tra loro anche un alpino che si chiama Antonio Ardenghi. Era chiamato il Roccia perché con le sue capacità manuali aveva fatto il muratore, aveva costruito praticamente da solo tutta la sede e aveva ristrutturato la cappella. Anche il presidente degli artiglieri è morto. Si chiamava Ilario Lazzaroni. E con lui sono morti il fratello, Mauro, che era il presidente del Caratter Club, del Motoclub di Nembro, che fu negli anni 70 persino campione del mondo di motoregolarità. E persino la sorella Mirella, Ilario, Mauro, Mirella. Tre fratelli morti nel giro di quattro giorni. La piazza di Nembro è il cuore pulsante del paese. All'ufficio anagrafe la regina incontrastata dell'ufficio si chiamava Cristina Marcassoli. Sarebbe andata in pensione, aveva cominciato a lavorare da giovane quest'anno perché avrebbe compiuto 60 anni. Non c'è arrivata a 60 anni. Era quella che sbrigava tutte le pratiche burocratiche. Era amata dal paese perché risolveva i problemi quando la burocrazia era troppo ostile. Lei sapeva trovare come il modo di aggirarla. Davanti alla piazza c'è la scuola comunale di Nembro e c'era un signore che si chiama Marino Novelli, un pensionato che faceva attraversare i bambini. Era un volontario, gli dava le caramelle tutte le volte ed è mancato anche lui. Dall'altro lato della piazza c'è il municipio. Dall'altro lato della piazza del municipio c'è il cinema modernissimo. Sandro Barcella era colui che curava le luci, che curava gli spettacoli, che era il factotum di quel cinema. Quando ripartirà lo spettacolo non ci sarà più Sandro, ci sarà qualcun altro a farlo continuare. E poi Ivana Valoti, l'ostetrica, quella che faceva nascere i bambini a Nembro, aveva 58 anni, la più giovane di questa lunga disamina. La più giovane è quella che ha suscitato forse il maggiore sconcerto perché portava la vita. E questo virus, questo virus che è arrivato da Wuhan e ha creato un sinistro gemellaggio tra Wuhan e Nembro, se l'è portata via. Che la Terra sia lieve a tutti loro.